A Foggia sta nascendo un grandissimo murales sulla legalità, è quasi ultimato, ne parliamo con il presidente dell'associazione Sobelicosa. Sì, grazie perché ci siete sempre al nostro fianco. Questo progetto si chiama Murart, il muro sociale, e rappresenta appunto il muro della legalità, dove come vedete alle mie spalle c'è l'artista Vito Moreno con un drappello di associati dell'associazione Sobelicosa e vuole rappresentare un albero accanto a tutti i tappi dove ci sono appunto le parole che rappresentano i vari principi di una società corretta e virtuosa. Abbiamo scelto questo muro a noi molto caro perché è in un quartiere, una periferia, una periferia del, appunto, il CEP, il quartiere CEP. Questo muro perché era sempre oggetto di affissioni abusive e ci è sembrato da subito una sorta di tela da personalizzare e quindi abbiamo chiesto le dovute autorizzazioni al comune che ovviamente ce le ha concordate e siamo partiti con questa realizzazione di questo progetto di arte partecipata finalizzata alla riqualificazione urbana. Arte partecipata perché invitiamo, come al solito, la cittadinanza a offrire una collaborazione dove crediamo che questa piccola esperienza possa necessitare per far sì che questi principi possano divenire propri.